Io ho conosciuto il dottor Antonini dopo aver subito un intervento alla prostata di prostotomia Fatto nel 2017 con esiti totalmente disastrosi, nel senso che lui aveva problemi di incontinenza, problemi di deficit rettile, quindi è stato un momento abbastanza delicato Ho subito un intervento a 50 anni e quindi sono rimasto impotente Perché prima l'intervento di prostata, poi lui ha subito anche uno sling all'uretra e quindi anche lì per l'incontinenza, ci sono stati problemi anche per l'incontinenza Poi ecco alla fine siamo arrivati all'ultimo step al dottor Antonini che alla fine ci ha dato molta speranza insomma di poter risolvere veramente alla grande L'ho conosciuto il dottore tramite una persona speciale, mia moglie che sta qui vicino, che lei è il mio angelo custode Devo dire la verità, l'abbiamo trovato sui social, su internet, l'ho seguito per un po' di tempo, mi sono documentata Insomma ho visto che era forse la persona giusta che ci poteva risolvere questo grande problema E mi sono aggrappata molto a questa cosa qui, ci ho creduto perché la prima cosa è che bisogna crederci Anche perché quando si sta a quel livello di disperazione, ti chiamiamo la disperazione perché poi arrivi pure anche alla disperazione Perché veramente poi il rapporto di coppia si va un po' a ledere, anche se comunque c'è un amore di base Però manca qualcosa per chiudere il cerchio, quindi abbiamo deciso di affrontarla questa cosa qui Infatti siamo venuti a studio, abbiamo parlato, quindi ci ha dato tutte le spiegazioni possibili, immaginabili Perché la sua disponibilità è immensa, ci ha detto insomma di pensarci un attimino Ma poi diciamo che la decisione è stata quasi immediata Poi lui si è deciso e abbiamo affrontato questa cosa qui E devo dire che è stata la cosa migliore che potevamo fare Perché poi la cosa si è risolta al 100% Un spiraglio, un spiraglio di luce dopo in un mondo buio Ecco cosa rappresentava, l'ultima spiaggia Ho fatto anche le iniezioni di caverjet, ma non erano qualcosa di... Era una condanna, era... L'esperimento di ancora peggio, diciamo, facendo anche peggio forse È un robot, dovevi tutto proclamare È disastroso, ma anche a livello pure fisico, doloroso, è disastroso Ho fatto la prima visita, poi abbiamo aspettato un po', non ero convinto Poi un altro anno, il secondo anno, sono riandato da lui E ho deciso di operarmi perché non c'era altra soluzione Peggio di così, lo rifarei anche domani Bisogna dare vita ai giorni, non a giorni alla vita Che veramente noi l'abbiamo vissuta con la pelle nostra Che abbiamo sprecato, forse due anni, due anni e mezzo Li abbiamo proprio buttati, non va bene Non va bene, dico alle altre persone E dico alle altre persone di non perdere tempo Forse noi abbiamo forse perso anche qualche... Un po' di tempo che non ce lo restituisce nessuno Però lo stiamo recuperando E quindi abbiamo scelto proprio il professionista giusto Perché il dottor Antonini è non solo un grande professionista Ma anche a livello umano Forse anche in quei momenti è la cosa più importante Anche l'empatia E comunque mettersi anche nei panni E spiegare dei vini più particolari poi tutta la procedura E mettere proprio il paziente a proprio agio Io ho fatto l'intervento, le dico francamente Noi il primo rapporto l'abbiamo avuto dopo 20 giorni Quindi tempo di ripresa velocissimi Proprio effettivamente, diciamo proprio per dire la verità Secondo me anche a livello pure... A livello proprio da parte dell'uomo Comunque un mesetto ci vuole anche di più Per riuscire a raggiungere proprio il massimo Dell'efficienza della protesi Posso dire proprio con sincerità pura Che uno non si accorge di nulla Di nulla Solo perché magari uno lo sa Ma poi la cosa si supera immediatamente Immediatamente anche quando c'è proprio una sintonia di coppia Si riesce a superare Uno non se ne accorge neanche più Prima di tutto crederci E poi quando si arriva a un punto di non ritorno Cioè nel senso che non si ha nulla dietro Comunque è meglio sempre affrontare Bisogna pensare al traguardo Quella è la cosa principale Bisogna pensare Ci sono tanti ostacoli Però bisogna anche superarli Superarli insieme Noi ringraziamo di cuore il dottor Antonini La prima cosa è questa L'ultima, anche la prima Per noi adesso è una persona speciale È un amico Sì, io subito Anche oggi stesso riperei tutto quello che ho fatto You subito You subito You subito